Saranno Germano d'Aurelio, in arte induccio, il gruppo comico I Quattro Santi ad inaugurare l'8 dicembre il calendario delle manifestazioni natalizie di letto Manopello. Molteplici le iniziative in collaborazione con le tante associazioni del territorio, a partire dall'accensione delle luminarie dell'albero di Natale. Per i più piccoli, la possibilità di consegnare la letterina a Babbo Natale in miniera per mantenere vive le tradizioni culturali. Il 31 dicembre il Capodanno in piazza, in compagnia del gruppo Concord Live, a seguire DJ per ballare fino alle prime luci dell'alba. Un brindisi al nuovo anno insieme per rinsaldare l'unione tra la comunità. Ecco, una serie di iniziative, un programma ricco, dove accontenteremo tutti, da 0 a 99 anni, senza distinzione. E soprattutto sarà un calendario che in qualche modo vuole dare massima aspettativa a coloro che vogliono visitare la nostra zona, il nostro paese e la nostra montagna. Essendo a pochi chilometri dall'impianto scistico della Maielletta Letto Manopello, si candida ad essere centro di grande attrazione per le vacanze invernali nel comprensorio. Siamo a solo i 10 chilometri da Passo Lanciano, ci sono tour operatori importanti come Maiellando che stanno spingendo molto sul nostro territorio. Perché? Perché vedono che comunque possiamo essere un comune a servizio di questa stazione scistica, soprattutto nelle ore quando non si scia. Insomma, quando uno si vuole rilassare, quando uno vuole trovare qualcosa di tradizionale importante, abruzzese lo può trovare nella nostra comunità.